benvenuti a questa lezione di sistemi informativi aziendali in cui parleremo di con modellazione concettuale quando abbiamo a che fare con un sistema informativo e cerchiamo di guardarlo dal punto di vista funzionale ci sono tre principali aspetti che intendiamo andare a descrivere quello che è l'aspetto informativo quali informazioni vengono trattate dal sistema e qui entra in gioco la modellazione concettuale che può essere svolta con diversi strumenti i diagrammi delle classi uml sono quello che utilizziamo noi ma in alternativa si può utilizzare anche una modellazione fatta con i diagrammi entità relazione il flusso di processo ovvero quello che si chiama modellazione di processo che può essere fatta con diverse notazioni i diagrammi di attività uml ma nel caso specifico di questo corso la notazione che si chiama bpmn e infine le interazioni che possono essere modellate in vario modo a livello concettuale tramite i diagrammi dei casi d'uso e le narrative dei casi d'uso oppure andando nel dettaglio dell'aspetto grafico utilizzando quelli che sono i mockup delle interfacce grafiche per il momento noi ci concentriamo sul primo di queste notazioni ovvero quella che è la modellazione concettuale fatta tramite il diagramma delle classi uml una breve introduzione a che cos'è uml uml sta per unified modeling language ed è un linguaggio grafico di modellazione standardizzato dall'omg l'omg è un ente internazionale di standardizzazione che è specializzato per l'appunto in notazioni per la progettazione e la descrizione di sistemi software all'interno di uml ci sono diversi diagrammi i diagrammi delle classi che possono essere utilizzati per la modellazione concettuale che è l'oggetto di questa lezione i diagrammi di attività che possono essere utilizzati per la modellazione di processo quelli i diagrammi dei casi d'uso che utilizzeremo più avanti per la modellazione delle interazioni i diagrammi di sequenza e gli state chart ma a questo punto concentriamoci sui diagrammi delle classi che utilizzeremo per svolgere la modellazione concettuale la modellazione concettuale consiste nella costruzione di un modello che fornisca un'escrizione ottimale di quello che è il sistema che vogliamo costruire il punto di vista che prendiamo è quello di tutte le persone che hanno un interesse nel sistema e quindi cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni che siano rilevanti per chiunque possa essere interessato nel sistema normalmente si svolge la modellazione concettuale non come prima fase nella descrizione di un sistema ma la modellazione concettuale è preceduta da una fase di raccolta e di analisi dei requisiti che forniscono le informazioni di base per poter poi andare a fare la modellazione concettuale lo scopo della modellazione concettuale è quello di catturare i principali concetti normalmente a un livello astratto che vengono gestiti dal sistema informativo ovviamente oltre ai concetti è importante andare a descrivere quelle che sono le caratteristiche specifiche di questi concetti in pratica i dati ad essi associati e le relazioni che esistono tra i concetti stessi il primo elemento che vediamo all'interno di un diagramma delle classi è ovviamente il concetto di classe quindi una classe rappresenta un concetto astratto ovvero un insieme di oggetti che hanno proprietà comuni hanno ciascuno la propria esistenza ad esempio dei fatti degli oggetti delle persone utilizziamo per andare a descrivere una classe normalmente un nome comune singolare ad esempio città dipartimento impiegato acquisto vendita sono delle possibili classi che potremmo utilizzare in un sistema informativo che gestisca un'organizzazione di tipo commerciale come vedete ci sono sia concetti più concreti come ad esempio la città sia concetti un po più astratti come ad esempio il concetto di vendita o di acquisto essendo uml una notazione grafica rappresentiamo le classi utilizzando una specifica rappresentazione visiva le classi in uml sono rappresentate da dei rettangoli normalmente i rettangoli sono divisi in tre sezioni la sezione superiore è quella che contiene il nome della classe le classi rappresentano un concetto generale astratto poi all'interno del mio sistema informativo avrò delle informazioni specifiche non del dipartimento in generale ma dei singoli dipartimenti della mia organizzazione questo viene rappresentato nell'approccio di modellazione uml tramite gli oggetti gli oggetti quindi sono degli esemplari di classi che vengono trattati all'interno del nostro sistema informativo e normalmente sono caratterizzati da una propria identità e da dei valori che li descrivono a volte quando è necessario andare a descrivere un oggetto lo si può rappresentare come un rettangolo al cui interno troviamo il nome dell'oggetto e la classe che descrive questo tipo di oggetti quindi abbiamo classi e oggetti questi rappresentano due diversi livelli di astrazione quindi in generale abbiamo un livello astratto più alto in cui parliamo di concetti di entità di classi per l'appunto di categorie o di tipi e un livello più concreto in cui abbiamo gli esemplari si utilizzano i termini distanza elemento oggetto esempio occorrenza ecco utilizzerò un po in maniera intercambiabile questi termini per andare a indicare le informazioni specifiche che fanno riferimento a una struttura astratta generale definita dalla classe le classi di per sé hanno un'informazione relativamente povera devono essere arricchiti andando a descrivere quelle che sono le caratteristiche specifiche e questo lo si fa tramite gli attributi un attributo è sostanzialmente una coppia nome e tipo quindi molto simile a quello che è una variabile in un linguaggio di programmazione e normalmente all'interno degli oggetti di una certa classe per ogni attributo avremo uno specifico valore come rappresentiamo gli attributi sostanzialmente rispetto ai tre comparti che costituiscono una classe gli attributi vengono inseriti nella classe centrale e vengono descritti da un nome e un tipo per cui se abbiamo uno studente le caratteristiche che descrivono uno studente sono il suo identificatore il nome il cognome la data di nascita che hanno rispettivamente come tipo tre stringhe e una data se andiamo a considerare una città possiamo dire che per quanto è rilevante nel nostro sistema informativo una città può essere caratterizzata da un nome e dal numero di abitanti che quindi corrisponderanno a questi due attributi name tipo stringa e abitanti di tipo intero quali sono i tipi di attributi che noi possiamo andare a utilizzare all'interno della nostra modellazione i valori che possiamo rappresentare negli attributi sostanzialmente possono utilizzare questi diversi tipi intero valore reale un valore booleano vero falso sì no dei caratteri delle stringhe di carattere del testo date ora o valori monetari di currency le classi da sole rappresentano i concetti ma può essere molto utile andare a pensare al fatto che molto spesso le classi non sono isolate ma sono legate da qualche tipo di relazione le relazioni sono modellate in uml tramite un costrutto che si chiama associazione che rappresenta un legame logico tra due classi ovviamente mentre abbiamo un legame logico tra le classi avremo in corrispondenza un legame tra specifici esemplari di queste classi per capire meglio questo concetto iniziamo a considerare una interpretazione di quello che sono la rappresentazione delle classi ovvero tramite insiemi quindi noi possiamo considerare una classe come l'insieme di tutti gli oggetti che appartengono a quella classe quindi la classe studente rappresenta l'insieme degli studenti ovviamente ciascuno di essi avrà al suo interno le informazioni i dati che sono definiti dagli attributi della classe studente e poi abbiamo una classe corso che rappresenta legata all'insieme di tutti i corsi del nostro rappresentati nel nostro sistema informativo ovviamente può esistere un legame tra studente e corso perché gli studenti seguono dei corsi abbiamo le condizioni le più varie quindi abbiamo un corso che è seguito da più studenti uno studente che segue più corsi ecco questi sono i legami tra gli oggetti tra i singoli esemplari quindi giovanni bianchi segue analisi 1 ovviamente noi vogliamo rappresentare il fatto che uno studente possa seguire dei corsi in maniera più astratta e lo facciamo quindi tramite un'associazione che va a legare la classe studente e la classe corso come rappresentiamo le associazioni beh nel modo più intuitivo ovvero tramite una linea possiamo utilizzare un segmento oppure una spezzata che collega due classi l'associazione ha un nome che cerca di descrivere il tipo di relazione che esiste tra queste due classi e in uml molto spesso si utilizza un piccolo triangolino che è come la punta di una freccia che suggerisce l'ordine la direzione in cui andare a leggere con cui andare a leggere l'associazione per cui lo studente frequenta un corso se stiamo parlando di un dominio che conosciamo bene è ovvio che questa freccia è praticamente inutile ma se si tratta di un dominio che magari non conosciamo bene ecco che la direzione di lettura delle associazioni può essere utile per capire meglio che cosa queste significano ovviamente tra la stessa coppia di classi io posso avere più associazioni che rappresentano ovviamente delle diversi tipi di relazioni che possono esistere per cui lo studente che segue un corso abbiamo un impiegato che lavora una città è un impiegato che è legato tramite l'associazione di residenza a una città attenzione che la presenza di un'associazione rappresenta soltanto la possibilità che uno studente segua un corso non sappiamo quale studente segue quale corso sappiamo solo che all'interno nostro sistema informativo dove avremo studenti dovremmo corsi ci sarà la possibilità per gli studenti di essere legati ai corsi tramite questo tipo di associazione oltre alle associazioni che legano due classi distinte che è il caso più comune esiste la possibilità di un'associazione che lega una classe a se stessa che cosa significa beh significa che sostanzialmente se andiamo a considerare il primo esempio che vediamo qua la classe studente è legata a se stessa tramite la associazione amico vuol dire che due oggetti di tipo studente due occorrenze di studente saranno legate tra di loro tramite questa associazione quindi è un'associazione che lega due oggetti che stanno all'interno della stessa classe ovviamente di solitamente sono due oggetti separati non significa che lo stesso oggetto che è legato a se stesso significa che sono due oggetti della stessa classe quando abbiamo a che fare con le associazioni ricorsive a volte abbiamo dei significati che possono essere considerati diciamo così simmetrici o riflessivi per cui quando abbiamo una relazione di amicizia normalmente se a è amico di b b è amico di a e quindi non importa chi è a e chi è b possono essere scambiati in altri casi ci sono delle associazioni ricorsive che invece non sono simmetriche quindi sono decisamente asimmetriche i due ruoli legati sono molto diversi ed è l'esempio della relazione di supervisione che vediamo qua tra due impiegati dove abbiamo da un lato il manager e dall'altro l'impiegato in questo caso è bene andare ad annotare i due estremi dell'associazione con quello che si chiama un ruolo quindi questa associazione di supervisione ricorsiva sulla classe impiegato ha due ruoli il ruolo manager e luolo impiegato ovviamente non ha molto senso andare a mettere i ruoli all'interno della legati all'associazione di amico perché all'interno di un'amicizia i due ruoli sono sostanzialmente gli stessi quindi in questi casi si omettono i ruoli abbiamo detto che in corrispondenza di un'associazione abbiamo poi dei legami tra oggetti per cui se vogliamo andare a rappresentare gli oggetti che abbiamo detto si rappresentano con questi rettangoli col nome e la classe possiamo andare a legare due oggetti con un legame che corrisponde all'associazione che lega le due classi la classe studente e la classe corso e quindi qui abbiamo che lo studente 1 è legato al corso 1 l'associazione di per sé è un qualcosa di molto vago ci dà un sacco di possibilità dato un corso quanti studenti lo possono seguire e dato uno studente quanti corsi può seguire per andare a specificare meglio quali sono i vincoli che caratterizzano un'associazione si utilizza quello che si chiama la molteplicità che descrive il numero massimo e minimo di oggetti che possono essere legati a un altro oggetto per cui ad esempio se abbiamo la classe auto la classe ruota è una classe una auto monta delle ruote quante ruote lo dice questa molteplicità dove abbiamo un minimo e un massimo quindi se io mi metto dal punto di vista dell'auto e guardo verso la ruota cioè mi metto nell'ottica di un oggetto specifico auto e quante ruote posso possono essere legate a me la risposta è da un minimo di zero a un massimo di 4 0 se l'auto è dal gommista che sta cambiando i pneumatici e 4 se l'auto si trova nel caso normale quindi questo tipo di molteplicità mi indica che un'auto può montare da nessuna fino a quattro ruote viceversa se andiamo a vedere l'altra molteplicità sul lato dell'auto ecco questo ci dice che guardando dal punto di vista della ruota verso le auto a quante auto può essere legata una ruota 0 1 ci dice che una ruota può essere montata su un'auto oppure su nessuna ai fini della modellazione molto spesso non ci interessa andare a definire dei numeri precisi come ad esempio 4 solitamente quando andiamo a parlare di numerosità massima i due valori che utilizziamo molto spesso sono uno oppure molti perché perché sostanzialmente uno vuol dire che c'è una relazione diretta molti vuol dire che ce ne sono tanti esattamente il numero cioè quanti non è spesso rilevante ai fini della modellazione per cui si omette a meno che ci sia un caso molto specifico come le ruote in cui è importante andare a dire che possono essere al massimo 4 ma se non siamo in questi casi molto specifici si mette molti e molti viene rappresentato con l'asterisco la molteplicità minima invece solitamente è 0 o 1 perché perché a noi interessa sapere se la partecipazione in una associazione è obbligatoria oppure opzionale cosa vuol dire torno indietro qua la ruota deve per forza essere legata a un'auto visto che la molteplicità minima è 0 significa che la ruota non è obbligata a essere legata a un'auto essere montata su un'auto ma la ruota può opzionalmente essere montata su un'auto ma non obbligatoriamente quindi lo 0 mi dice che la partecipazione delle ruote nell'associazione mount con le auto è opzionale se invece qui ci fosse stato un 1 questo avrebbe voluto dire che una ruota deve essere per forza obbligatoriamente montata su un'auto per questo motivo normalmente le molteplicità minime sono o 0 o 1 anche qui ci sono i casi particolari in cui io vado a specificare un numero specifico però sono molto rari indicativamente quando andiamo a parlare di molteplicità utilizziamo 0 1 per la molteplicità minima e 1 molti per la molteplicità massima esempi ordine vendita fattura quindi un ordine è legato dall'associazione vendita con una fattura quali sono le molteplicità allora un ordine è legato a esattamente una fattura è legata esattamente a un ordine qui non ho messo minimo e massimo ho messo semplicemente 1 deve essere per forza 1 minimo e massimo corrispondono a 1 perché perché non posso emettere una fattura se non c'è a monte un ordine viceversa quando andiamo a considerare il punto di vista dell'ordine verso la fattura ecco un ordine può essere o meno legato a una fattura perché perché nel momento in cui un ordine è emesso la fattura probabilmente non c'è ancora se l'ordine va a buon fine allora verrà emessa una fattura ma l'ordine non è obbligato a essere legato a una fattura è opzionale e in ogni caso un ordine sarà legato a una e una sola fattura persona e città una persona ha la residenza in una sola città ok non esiste una persona in un sistema informativo che non abbia una residenza quindi per forza devo avere una residenza e viceversa quando io una città una città può avere zero se magari una città di nuova definizione o un nuovo comune che il cui sistema informativo non è stato ancora definito fino a molti e tante persone che hanno residenza in quella città se andiamo a considerare l'ultimo esempio quindi turista e viaggio legati dall'associazione prenotazione da un punto di vista del turista guardando verso il viaggio un turista può aver fatto zero oppure molte prenotazioni di viaggi viceversa un viaggio se è legato se guardo il viaggio verso il turista attraverso associazione prenotazione un viaggio deve avere almeno un turista prenotato se no non esiste e ovviamente ne può avere molti quindi molti turisti possono prenotare lo stesso viaggio in termini pratici cosa vuol dire andare a mettere delle associazioni tra delle classi e avere delle classi con dei dati vediamolo in un caso molto semplice se abbiamo la classe studente con la matricola nome cognome l'altà di nascita ecco ogni classe in pratica corrisponde all'interno del sistema informativo a una tabella con i dati ogni riga di questa tabella corrisponderà a che cosa agli oggetti alle occorrenze alle istanze della classe studente quindi i dati degli oggetti studente sono rappresentati all'interno del nostro sistema informativo come righe di una tabella per cui la matricola s2345 di john smith nato il 12 4 1990 è rappresentato in questa riga della tabella all'interno del sistema informativo analogamente se noi abbiamo un corso con il suo identificatore un titolo e numero di crediti anche qui le istanze gli oggetti della classe corso sono rappresentati nel sistema informativo come righe righe che contengono i dati che corrispondono agli attributi della classe corso a che cosa corrisponde quindi un'associazione tra due classi sostanzialmente se immaginiamo la nostra associazione come una grossa matrice in cui le righe sono gli oggetti di un di una classe e le colonne sono gli oggetti dell'altro qui ho riportato semplicemente l'identificatore per semplicità ecco in questa matrice posso avere delle x quando un certo studente segue un certo corso nulla se lo studente non segue il corso quindi in questo caso il corso 1 è seguito dagli studenti s1234 e s5678 mentre invece il corso 3 è seguito dallo studente con matricola s2345 quindi sostanzialmente se richiamate le vostre conoscenze di analisi matematica ed insiemistica le associazioni sono sostanzialmente una rappresentazione di quello che è un una relazione matematica ovvero un sotto insieme del prodotto cartesiano quindi ho un sotto insieme di tutte le possibili coppie di oggetti di una classe e degli oggetti dell'altra ovviamente in quanto relazione matematica dato uno studente e un corso e io avrò un'unica cella in cui potrò andare a dire che lo studente segue o non segue il corso non posso avere uno studente che segue più volte un corso quindi data una coppia di oggetti delle due classi questi o sono legati da un legame che corrisponde all'associazione oppure non lo sono quindi l'associazione non mi permette di andare a rappresentare legami multipli tra la stessa coppia di oggetti delle due classi a questo punto qualche piccola considerazione molto semplice su gli attributi e le associazioni se andiamo a prendere l'esempio di prima abbiamo un impiegato che lavora in una città l'impiegato ha un nome un'età e uno stipendio ha una residenza una città e lavora in una città non è detto che le due siano stessa quindi potrebbe avere la residenza una città e lavorare in un'altra e la città ha un certo nome e un numero di abitanti ecco in questo caso specifico c'è un attributo che è problematico ovvero l'età del nostro impiegato perché perché sostanzialmente se noi andiamo a memorizzare nella tabella che abbiamo visto prima rappresenterà nel sistema informativo i dati relativi agli oggetti della classe impiegato l'età ecco quel valore lì automaticamente ogni anno il giorno del compleanno di questa persona dovrebbe essere aggiornato incrementato di 1 quindi vado a memorizzare quello che è un attributo che è derivato dalla data di nascita quindi io posso calcolare l'età facendo la differenza tra la data odierna e la data di nascita quindi non ha molto senso andare a memorizzare l'età un dato che comunque viene varia nel tempo in maniera automatica ha molto più senso come avevamo fatto nell'esempio di prima degli studenti andare a memorizzare la data di nascita quindi bisogna fare attenzione perché alcuni attributi sono primari hanno un valore e quello resta altri sono derivati quindi possono essere calcolati ecco devo fare attenzione a non mettere informazioni che variano nel tempo ma informazioni che sono definite e statiche ovviamente io posso avere dei dati che variano per cui ad esempio lo stipendio dell'impiegato può variare però è un'operazione che viene fatta in maniera esplicita nel sistema informativo perché c'è un ordine che viene emesso da qualcuno per aumentare lo stipendio di un impiegato e quindi l'operazione di aumento dello stipendio di un impiegato porta a cambiare un valore ma nel caso dell'età quel valore lì non viene cambiato in maniera decisa da qualcuno l'età aumenta automaticamente un altro aspetto da considerare questo è legato alle associazioni quando andiamo a vedere gli abitanti di una città ecco il numero di abitanti di una città sostanzialmente corrisponde al numero di impiegati o persone che vivono in quella città quindi in pratica se noi andiamo a pensare a quello che è la rappresentazione insiemistica ci rendiamo conto che il numero di abitanti è un qualcosa che io posso andare a rilevare semplicemente andando a osservare quanti impiegati hanno residenza in una città quindi semplicemente andando a contare quanti legami da una città verso impiegati ci sono posso sapere che ad esempio in questa città ci sono cinque abitanti quindi nel caso specifico possiamo andare a dire che questo attributo è sostanzialmente un attributo implicito quindi lo possiamo omettere perché lo possiamo derivare andando a osservare all'interno del nostro sistema informativo quanti legami ci sono se non vogliamo andare a ragionare in termini di diagramma insiemistico guardando una tabella di questo tipo possiamo semplicemente andare a vedere che per sapere quanti iscritti ci sono in un corso andare a contare quante x ci sono in questa colonna quindi dentro un corso io non andrò a mettere il numero di iscritti perché il numero di iscritti è già rappresentato implicitamente da questa associazione tra studente e corso quindi riepilogando in maniera molto sintetica abbiamo visto che nella nostra modellazione noi abbiamo una costrutto fondamentale che è quello di classe le classi sono caratterizzate da attributi che noi andiamo a descrivere all'interno della sezione intermedia con un nome e un tipo i tipi sono quelli che abbiamo evidenziato qua di uso più comune è ovvio che poi se serve andare a rappresentare qualche caso o tipo particolare lo possiamo utilizzare però nella maggioranza dei casi quando andremo a modellare questi sono i tipi che potremmo utilizzare infine le classi non stanno a sé ma bensì sono legate molto spesso da delle associazioni le associazioni dicono che gli oggetti di una classe possono essere legati agli oggetti di un'altra come possono essere legati ecco viene definito in termini di vincoli da questi numerini che sono detti molteplicità quando abbiamo una molteplicità andiamo esprimere sia il numero minimo che normalmente è 0 1 che mi indica l'obbligatorietà o meno di un'associazione e una molteplicità massima che mi dice qual è il numero massimo di oggetti di quel tipo che possono essere legati anche qui non uso nel caso più comune il numero preciso ma vado semplicemente a indicare l'asterisco per molti oppure 1 grazie a tutti grazie a tutti